buona giornata siamo a martedì 11 gennaio 2012 che verso fa il cavallo nitrisce ma com'è il nitrito del cavallo è così pressa poco provo a fare un'imitazione lo so magari è pessimo non lo metto in dubbio però mi andava di farlo mi andava di farlo perché oggi si è slegato il cavallo imbizzarrito della mia fantasia e ha cominciato a galoppare e quindi cosa ha fatto vi avevo comunicato giorni fa che avevo iniziato il libro nuovo l'ha cestinato e mi ha detto devi scrivere così devi fare così si è messo a galoppare non sono riuscito ad arrestarlo ed ecco che partita veramente oggi la scrittura la stesura del nuovo libro e già direi che per essere oggi la prima giornata ne è venuto fuori un bel pezzettino è ne è venuto fuori un bel pezzettino solitamente certo pensarci un po oggi di getto è uscito il primo capitolo di introduzione pensate un po pensate un po 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 quindi oggi sono particolarmente felice e anche emozionato per questa esperienza perché ogni mia esperienza io la vivo comunque con estrema emozione con gioia perché le esperienze devono essere sempre comunque volte alla positività devono essere sempre fatte con piacere se no la ciambella non viene fuori col buco se voi fate una cosa contro non con piacere non con convinzione viene fuori male la maggior parte delle volte va beh dunque oggi non voglio complicare fare discorsi particolarmente complicati li faremo magari nei prossimi video oggi sono preso veramente da questa da questa questa emozione da questa nuova voglia di di scrivere però 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 po 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 però dovreste farmi un favore divulgare aiutarmi a portare avanti un pochino le vendite del precedente libro di come volversi senza invecchiare perché proprio grazie ai ricavati di come volversi senza invecchiare dipenderà la pubblicazione del nuovo libro che sto per fare e questo perché perché io sono ancora nella situazione di dovermi autoprodurre e vi assicuro che i costi di autoproduzione con un marchio editoriale sono veramente alti e non so francamente se riuscirò a sostenere oggi come oggi i costi di autoproduzione per il prossimo libro per cui se mi date una mano con la divulgazione di come volversi senza invecchiare e aiutandomi a farlo conoscere e a convincere i vostri amici parenti conoscenti ad acquistarlo da ciò che se ne ricaverà sicuramente dipenderà la pubblicazione del prossimo libro siamo non a buon punto ma neanche messi malissimo ecco se continuiamo su questa strada se come volversi senza invecchiare continua a vendere come sta vendendo io direi che ce la potremmo fare ma deve continuare così però quindi chiedo il vostro aiuto la vostra collaborazione se avete voglia di leggere il mio prossimo libro aiutatemi e sicuramente non ve ne troverete pentiti quindi fate conoscere come volversi senza invecchiare perché è un libro che assolutamente comunque non tramonta il suo contenuto è sempre fruibile e trasmette sempre le stesse emozioni anche letto tra diecimila anni trasmette sempre le stesse emozioni delle giornate in cui è stato scritto quindi non è non è un libro che ha a scadenza non è un periodico diciamo diffondetelo perché da come volversi senza invecchiare ripeto dipende la pubblicazione del prossimo libro per oggi è tutto buona giornata ancora buon inizio d'anno a tutti dai che tutto ciò di cui avete bisogno possa in qualche modo arrivarvi che i vostri desideri si realizzano e che questo 2012 sia veramente un cambiamento per tutti noi voglio il mutante mandaci il mutante abbiamo bisogno di un mutante mandacelo giù mandacelo giù mandacelo giù che non ne possiamo più vogliamo il mutante vogliamo il mutante abbiamo bisogno di un mutante per cambiare le cose un mutante che raddrizzi un po' che riempia un po' le nostre anime vuote che raddrizzi un po' le nostre zucche mandacelo ti prego mandaci il mutante